Dopo l'approvazione del bilancio partiranno i lavori di riqualificazione a Chieti per le strade ma anche per la Villa Comunale? Sì, subito dopo l'approvazione del bilancio finalmente partiranno interventi molto importanti della città, sia per quanto riguarda la messa in sicurezza di alcuni tratti importanti del territorio, e sono interventi abbastanza importanti, andiamo a sistemare delle vie importanti sia dalla parte bassa, cioè via Unità d'Italia, sia via Ricciardi, via Pescara e anche altre vie che riguardano il centro della città. Oltre a questi, subito dopo l'approvazione del bilancio, partiranno anche i cantieri importanti come la riqualificazione del campetto della Villa che da anni ormai è fermo all'abbandono e quindi siamo giunti al termine per l'inizio dei lavori. Oltre a questo ci saranno anche altri interventi che riguardano sempre delle manutenzioni all'interno degli alloggi popolari e anche all'interno delle scuole, dove noi garantiamo una sicurezza, soprattutto all'inizio delle scuole, di far usufruire le scuole in maniera sicura. Oltre a questo ci saranno anche altri interventi che riguardano quartieri importanti della città, ma andiamo a riqualificare una parte della Villa che insieme all'assessore Zappalorto stiamo cercando di immaginarci come un punto ancora più importante della città. Oltre a questa viabilità che c'è, con la riqualificazione della Villa e con l'intervento che andremo a fare per quanto riguarda tutto il verde pubblico, vogliamo dare un impulso ancora più importante. Oltre a questi cerchiamo di dare avvio e anche conclusione di alcuni cantieri come la riqualificazione di Largo Mori Corvo, che siamo in via di conclusione dei lavori, che ci permetterà di usufruire un parcheggio multipiano che è importante per la città, ma poco usufruito. Con questo intervento andiamo a ricollegare il centro storico della città e il parcheggio al fine di avere una mobilità più sostenibile e un raggiungimento del centro storico più vivibile. Ricordiamo anche qual era stato lo stanziamento delle risorse per questi lavori. Per quanto riguarda gli interventi che faremo sulle strade, sono stati stanziati intorno ai 400.000 euro, che sono dovuti a somme che riguardano interventi di messa in sicurezza della strade con fondi nostri propri, con un lavoro fatto con l'accertamento dei sidi, dove nel tempo ci siamo organizzati per raschiare il bilancio e non creare nuova spesa.